Un'altra notte di violenza è quella che si è verificata a Milano tra sabato 14 e domenica 15 maggio, dove si sono registrati tre episodi di aggressione nei confronti di tre ragazzi, un inglese e uno spagnolo in via canonica in due episodi differenti e un italiano in piazza 24 maggio. L'inglese è stato rapinato di un Rolex da 15.000 euro, lo spagnolo è finito in codice rosso in ospedale e infine all'italiano hanno portato via la collanina d'oro che aveva al collo. La prima richiesta d'aiuto al 112 arriva intorno alle 3.30 del mattino, quando l'inglese di 32 anni ha raccontato ai soccorsi di essere stato aggredito, mentre si trovava in via canonica, da due persone che erano riuscite a strappargli dal polso il Rolex GMT Master 2 per poi prendergli lo smartphone, una collanina, un bracciale e il portafoglio con 500 euro in contanti. I due malviventi sono subito scappati, mentre l'uomo, che non è rimasto ferito, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Una volta arrivati in via canonica, gli agenti si accorgono però anche di alcune tracce di sangue vicino ad una macchina parcheggiata, che non avevano nulla a che fare con quello che era successo al 32enne inglese. Ed è così che attraverso una serie di accertamenti, la polizia ha scoperto che sempre quella notte un ragazzo spagnolo di 24 anni era stato aggredito e poi portato in codice rosso all'ospedale San Carlo perché aveva perso molto sangue. Una volta raggiunto in ospedale, il ragazzo ancora sotto shock però non è stato in grado di spiegare i dettagli dell'aggressione agli agenti. Nella mattinata di domenica comunque le sue condizioni sono nettamente migliorate ed è stato dimesso. Infine una terza rapina si è verificata poco prima delle 5 del mattino in piazza 24 Maggio dove un 25enne italiano è stato aggredito da due uomini stranieri che gli hanno strappato dal collo la collanina d'oro per poi darsi subito alla fuga. La vittima però è riuscita a fermare uno dei due e il malvivente, un 23enne di origine marocchina, è stato denunciato per furto con strappo in concorso.